In attuazione della specifica direttiva comunitaria relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, la Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente e l'Assessore all'Avicoltura Emanuele Imprudente, ha approvato la revisione del programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Nel dettaglio si è ravvisata la necessità della progettazione del nuovo programma di azione per l'indicazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Nell'emore della sua adozione la Giunta ritiene di poter estendere le disposizioni e gli effetti del vigente programma anche alle nuove zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola. Le disposizioni e gli effetti del programma di azione attualmente in vigore, pertanto, saranno applicate anche alla piana del Tordino, alla piana del Saline, alla piana del Foro, a quella del Sangro, alla piana del Sinello, alla piana del Trigno, alla piana del Vibrata e alla piana del Vomano. Grazie a tutti.